E rabbia a un minuto circa dalla fine il Gamma Innovation Sarzana subisce il 6 a 6 al vecchio mercato dal Vercelli e con questa vittoria i rossoneri mancano anche la qualificazione diretta ai playoff di serie A1 nazionale. Per accedervi dovranno passare prima da una fase preliminare A4 a cui parteciperanno, oltre a loro, altre tre fra lo stesso Vercelli, il Grosseto, il Bassano ed il Valdagno. Tutto è rimandato a mercoledì prossimo quando i sarzanesi chiuderanno la regular season in provincia di Vicenza in casa del Montebello, mentre per quanto concerne gli incontri casalinghi la regular season si è appunto chiusa contro i vercellesi. Peccato perché a lungo i sarzanesi sono stati in vantaggio contro i piemontesi anche di netto. Per la cronaca due reti Chicco Rossi, altrettante Paul Galbas, una ciascuno Nachera e De Rinaldes. Nel frattempo, in attesa cioè della trasferta di chiusura della stagione cosiddetta regolare, trasferta in Svizzera contro il Duisbach, ma l'impegno è platonico perché i V sono già qualificati per la fase finale. Sabato è stata una partita che ci lascia la mare in bocca perché era una partita dove pontevamo consolidare il settimo posto con l'obiettivo di questa parte di stagione e invece purtroppo abbiamo ricevuto il pareggio a cinque secondi dalla fine, ma oltre a quello è stata una partita non ad altezza da parte nostra. Ora arriva il bello della stagione e noi dobbiamo essere pronti perché siamo ancora in ballo per tanti obiettivi. Sabato andiamo in Svizzera a finire il girone di Eurolega, anche se siamo già qualificati per la final four, ma sono partite che danno fiducia e dobbiamo approcciare al meglio dei modi per vincere e essere lanciati verso settimana prossima che abbiamo, a partire dalla settimana prossima, abbiamo degli impegni veramente importanti e dobbiamo farci trovare pronti. Grazie